L'exposizione sarà Sì, ci sono delle opere abbastanza del periodo della guerra, delle opere recenti di Beirut ma anche un bel po' di opere che sta producendo qui a Napoli Divenuto famoso nel 2006 raccontando la sua Beirut durante i bombardamenti israeliani, Mazen Kerbay farà lo stesso con Napoli al termine del soggiorno in città pubblicando foto e disegni sul suo blog Il progetto si concluderà con il concerto dell'artista che è anche un trombettista di talento Quest'idea di Napoli che sia cerniera fra l'Oriente e l'Occidente e che sia sicuramente una città occidentale ma che ha così ancora tante influenze culturali dentro il suo mondo di essere Che provengono dagli orienti, non soltanto dal Medio Oriente ma anche da orienti più lontani, ne fa una città particolarissima E naturalmente il Forum Universale delle Culture nel momento in cui crea collegamenti fra Napoli e il mondo Mettendo in contatto le energie positive che ci sono in questa città con energie analoghe che ci sono altrove Non può dimenticare questa natura originaria della città, c'è questa sua collocazione al centro del Mediterraneo ma appunto cerniera fra molte culture Grazie